Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Capiago in Timiano, in via Salvadera, nella zona del cimitero. Due auto per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate violentemente. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, uno dei due, una donna di 61 anni, in modo grave. Per i soccorsi è intervenuto anche l'elicottero del 118 che ha trasportato la paziente all'ospedale di Legnano. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto attorno alle 13.30 e ha coinvolto due vetture, una Citroen C1 sulla quale viaggiava la donna e una Ford Focus condotta da un uomo di 76 anni. Nell'impatto la donna ha avuto le conseguenze più serie. A Capiago in Timiano sono intervenute un'ambulanza della Croce Azzurra e l'automedica del 118 che hanno poi chiesto anche l'intervento dell'elicottero. Per i soccorsi e i rilievi sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I due automobilisti sono stati sottoposti alle prime cure e poi trasportati in ospedale. L'uomo in ambulanza al Sant'Antonio Abate di Cantù e la donna in elicottero a Legnano. Secondo le prime informazioni avrebbe un grave trauma alle gambe ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Per le operazioni di soccorso si sono inevitabilmente registrate code e rallentamenti, accertamenti in corso per chiarire la dinamica dello scontro.